A Bologna questa mattina la firma di un accordo fra la Regione e il Sindacato dei Medici di Medicina Generale, Ivana Delvino. La responsabilità di dare una prospettiva di risoluzione al problema dell'affollamento degli accessi ai pronti soccorsi. Nasce da questa esigenza il progetto di riorganizzazione dell'assistenza medica per le urgenze. La Regione ha firmato con la FIMG, il principale sindacato dei professionisti di medicina generale, un accordo che prevede il coinvolgimento delle ex guardie mediche nei futuri centri di assistenza medica delle urgenze. I CAO si chiameranno così. Saranno strutture realizzate nelle case di comunità o negli ospedali o in altri luoghi messi a disposizione delle house per curare i codici bianchi e verdi che ora rappresentano il 70% degli accessi ai pronto soccorso. Sarà istituito entro un anno un numero unico, il 116 117, a cui chiunque potrà rivolgersi per capire se recarsi a un CAO o al pronto soccorso. I centri di assistenza medica delle urgenze saranno sempre aperti e dotati di tutte le attrezzature diagnostiche per curare diverse patologie senza necessità di mandare i pazienti in ospedale. Attualmente una criticità grossa di questo accordo, però troveremo il modo di risolverla, è che molti medici sono in transito sulla guardia medica. Quindi sono specializzanti, medici che hanno un'altra vocazione, che però temporaneamente fanno la continuità assistenziale.